La condizione delle donne nei Balcani e il loro cammino verso l'emancipazione, il femminismo islamico e l'Iran post-rivoluzione. Questi sono solo alcuni dei temi che questa mattina sono stati approfonditi da un tavolo voluto dal Comitato Unico di Garanzia dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara in occasione dell'8 marzo. Cosa vuol dire essere donna ai tempi della crisi? Si è parlato di diritti negati tra guerra e migrazione e divieti religiosi. L'evento si è svolto all'auditorium del Rettorato. Noi abbiamo dedicato questo evento a queste donne che difendono il loro diritto di affermazione in contesti di perseguizione violenta e anche a costo della libertà e della vita o in contesti di guerra, guerre che le donne non desiderano ma che soffrono in prima persona come donne, come cittadine, come madri e come figli. Cercheremo di coprire un po' tutto il, diciamo, non dico tutto il mondo, però insomma di dare voce e attenzione a tutte quelle donne in varie parti del mondo e di capire, come oggi in questa occasione, le radici storiche, religiose, culturali e politiche, economiche che hanno creato e che mantengono questa posizione di svantaggio. E oltre che ribadire la necessità di una vicinanza a chi si vede negati quei diritti in situazioni di particolare disagio, tocca anche ricordare che il dialogo in e con l'Occidente non è certo terminato e che ogni evento è un piccolo avvicinamento, lento ma fermo e progressivo. Noi siamo, diciamo, fortunatamente in una condizione diversa ma non abbiamo raggiunto la parità, altrimenti non avremmo bisogno di organismi come quello universitario, insomma che è in tutte le organizzazioni lavorative, che garantisca e sorvegli e fornisca occasioni di promozione, altrimenti non avremmo bisogno di leggi che impongono una parità o semi parità in consensi che sono sia politici che amministrativi, eccetera. Quindi noi siamo fortunati perché siamo molto avanti, abbiamo iniziato ormai molti anni fa con grandi, diciamo, corse, arresti e a volte qualche passo indietro. Quindi noi ci confrontiamo con le donne occidentali, diciamo così, e chiaramente ci sentiamo molto fortunate, però non siamo arrivate.